bene didatta 2023 siamo qui con giovanni biondi responsabile scientifico della fiera didatta qui a catania mister bianco buongiorno biondi buongiorno allora come sta andando questa fiera quest'anno sembra bene nel senso che dal punto di vista numerico abbiamo superiamo l'edizione dell'anno scorso cui avremo un migliaio di persone in più più o meno da un punto di vista scientifico spero altrettanto ecco scientifico significa che si stanno affrontando tanti argomenti numerosissimi seminari workshop convegni un particolare solo inutile girarci intorno qua domina l'argomento dell'intelligenza artificiale quello che è emerso tantissimo è che il docente deve prendere in mano la situazione nelle classi ed evitare che questa intelligenza artificiale poi diventa uno strumento in qualche modo disturbante l'attività didattica si vede quando l'intelligenza artificiale ha fatto diciamo emersa nel mondo della scuola perché che è tra di noi è molto basta vedere i consigli per gli acquisti diciamo è quello che avviene quando navighiamo su internet però e la usiamo magari inconsapevolmente però quando ha fatto la comparsa soprattutto chat gpt nella scuola c'è stato un irrigidimento nel senso che molti insegnanti ho detto vabbè però quando i ragazzi mi presentano la reale la relazione la ricerca eccetera l'avranno fatta loro l'avrà fatta l'intelligenza artificiale e quindi molte università americane hanno proibito di usare chat gpt però diciamo il primo atteggiamento è stato di paura ora io credo che in realtà l'intelligenza artificiale può dare un forte aiuto alla scuola non per fare al posto degli studenti il lavoro ma esattamente l'opposto perché potrà diciamo aiutare gli studenti nella comprensione di potrà diventare un amico virtuale diciamo così che ragazzi si portano dietro e che gli aiutano a capire cose che magari a scuola nella lezione frontale non hanno capito a fare degli esercizi ad avere degli esempi quindi l'intelligenza artificiale va vista come un amico virtuale a cui dire beh senti oggi hanno spiegato le funzioni e io non l'ho capito me le spieghi per favore ma guarda che quello che mi hai detto non lo capisco ancora mi fai degli esempi ma questo esempio non lo capisco me ne fai un altro e via discorrendo e poi dice ma si prova a fare insieme degli esercizi e l'intelligenza artificiale non farà come libri di testo che gli dice se il risultato finale è giusto o sbagliato imparà a vedere il procedimento quindi potrà essere una cosa ai ragazzi si portano dietro sul telefonino su un tablet e che li sostiene nei percorsi di apprendimento ma può essere un amico virtuale anche per gli insegnanti assolutamente sì prima di tutto perché vedete da un punto di vista generale tutti i lavori tutte le routine tutti i lavori di routine vengono sostituiti dall'applicazione digitale nella scuola saranno le routine cognitive cioè fare gli esercizi correggere tutta questa parte rutinaria dell'apprendimento sarà data in pasta digitale all'intelligenza artificiale che potrà fare anche quella cosa che nelle scuole si proclama ma non si riesce a fare che è l'apprendimento individualizzato è stato abbiamo presentato a didacto un'esperienza buffissima che viene dalla dall'arzebaijano dove praticamente questi signori durante la pandemia invece di avere tante piattaforme una per scuola erano una centrale in cui hanno memorizzato tutte le lezioni gli esercizi gli errori poi l'hanno data in pasta all'intelligenza artificiale e ora l'intelligenza artificiale si rivolge singolarmente a ognuno del milione e duecentomila studenti proponendoli esercizi in base agli errori alle difficoltà che loro fanno cosa deve fare un docente per governare al meglio questa intelligenza usarla con l'obiettivo che deve avere la scuola perché tutte le innovazioni diciamo che vengono introdotte nella scuola non devono cambiare non cambiano l'obiettivo della scuola la scuola sempre stesso obiettivo che è formare delle teste ben fatte oggi ancora di più che di questo e chiede il mondo del lavoro e tutto quello che serve a questo obiettivo l'insegnante lo deve usare è prevista una formazione mirata per gli insegnanti questo non lo so in sicilia giusto che siamo in sicilia l'assessore con cui ho parlato a lungo farà un bando per sperimentare una ventina e una ventina di scuole delle applicazioni intelligenza artificiale e se i risultati andranno bene saranno stessi poi anche le altre scuole anche con i soldi di PNRR questo potrebbe avvelire quello che userà la regione su cina non lo so in generale PNRR mette a disposizione tante cose per le scuole quindi quindi è una delle cose da usare oggi l'intelligenza artificiale avrà degli sviluppi nei prossimi anni enormi enormi impensabili fino a qualche anno fa perché siamo di fronte a intelligenze generative che quindi generano si autogenerano creano delle situazioni nuove chat gp 3 4 quella che ora anche a pagamento eccetera ha fatto un salto enorme rispetto alla versione precedente un'ultimissima i tempi di attuazione per vedere dei risultati concreti parliamo di tanti anni o di quanti anni? No non parliamo di tanti anni queste cose galoppano corrono? Ce le troveremo ce le troveremo nella vita quotidiana in maniera sempre più presente molto ravvicinata diciamo pure che può essere un futuro prossimo non anteriore sì sì assolutamente bene ringraziamo Giovanni Biondi responsabile scientifico didatta Sicilia grazie